Appunto la speaker democratica Nancy Pelosi ha strappato il testo e nel frattempo Dallaio va ancora ritardi nei risultati. Dario Laruffa. Siamo nel tempo della grande riscossa americana. Donald Trump non ha dubbi nel pronunciare il discorso annuale del Presidente sullo Stato dell'Unione, discorso segnato dalla polemica con Nancy Pelosi, Presidente democratica della Camera. All'inizio Trump rifiuta la mano che Pelosi gli porge, alla fine sarà Pelosi a strappare a cigliata la copia del discorso che Trump le aveva consegnato. E dopo scambio reciproco di battute al vetriolo. Nel mezzo le parole che si attendevano, Trump fermo sui risultati e i punti cardine, economia, aborto, armi, lotta all'immigrazione non regolare, non lasceremo che il socialismo distrugga la nostra sanità, i risultati nella lotta al terrorismo, ospiti simbolici per ogni tema da sottolineare. Applausi per lo più solo dei repubblicani, solo alcuni bipartisan, come quello al capo dell'opposizione venezuelana Guaidó. I democratici affidano il tradizionale discorso di replica alla Whitmer, governatrice del Michigan. Sono sotto botta per il caos elettorale in Iowa, dove un giorno non è bastato ad avere risultati definitivi. Si conferma però il successo del giovane Buttigieg assieme al vecchio Leone Sanders, mentre va male Biden sinora in testa nei sondaggi. Oggi al Senato il voto sull'impeachment di Trump che sarà assolto dal voto del suo partito. In Italia con la strage nell'acciaieria Tissen di Torino nel 2000.